Abbiamo indetto come segreterie nazionali di Will, CGL e CISL di categoria questa giornata di sciopero, oggi, per manifestare la nostra contrarietà a una scelta che l'azienda ci ha comunicato in un incontro tenuto l'8 di aprile presso l'Asso Lombardo di Milano di cedere 335 lavoratori che si occupano della manutenzione della rete, delle centrali, verso una società di nome Ericsson. Come prima istanza, rispetto a questa dichiarazione da parte dell'azienda, come organizzazioni sindacali abbiamo ritenuto doveroso indire questa giornata per mobilitare tutti i lavoratori di Vodafone e soprattutto per far capire all'azienda la nostra contrarietà su questa scelta che noi riteniamo, ad oggi, assolutamente immotivata. Che rischi corrono ai dipendenti? I dipendenti rischiano in questo momento di passare verso Ericsson rispetto a quello che comunque la legge prevede, mantenendo il contratto ma perdendo tutti quelli che sono i benefit o gli accordi di miglior favore che come sindacato abbiamo fatto in questi anni all'interno di Vodafone Italia e soprattutto la preoccupazione su quelli che sono gli scenari futuri della loro occupazione una volta usciti da Vodafone, che ricordiamo essere una delle aziende principali come operatori nell'ambito delle telecomunicazioni nel nostro paese. Se riuscirà a raggiungere un rapporto? Ma, constatato che oggi c'è questa grande giornata di mobilitazione che ha prodotto una grossa affluenza e partecipazione allo sciopero, io ritengo che da domani, quindi da lunedì, bisogna alle parti sedersi attorno a un tavolo e iniziare a ragionare. Ovviamente come organizzazione, come Will, il nostro obiettivo è sicuramente salvaguardare al massimo questi lavoratori. In primo acchitto potrei dire che vorremmo che Vodafone ritirasse questa procedura. Purtroppo questo dubito che avvenga, perché comunque la legge italiana prevede, ahimè, le cessioni di ramo d'azienda e allora l'obiettivo che io mi prefiggo come organizzazione e auspico tutto il sindacato sia quello di sedersi attorno a un tavolo con Vodafone e con Ericsson per capire se ci sono le condizioni, ed è l'auspicio che io in questo momento mi sento di dire, di trovare un accordo complessivo per dare tutte le garanzie a questi lavoratori che comunque dal mese di luglio, così come prevede la legge, passeranno da Vodafone verso Ericsson. Visto che la legge prevede questo, c'è possibilità che loro possano anche eliminare la vostra richiesta? Sì, anche se nel nostro settore poi alla fine c'è stato sempre quel confronto, anche a volte forte, con le aziende. Noi riteniamo che per il bene di tutti, in primis di questi 335 lavoratori, ci sia quel senso di irresponsabilità di tutti in prima battuta delle aziende, quindi in questo caso di Vodafone ed Ericsson, a convocare immediatamente il tavolo e sarà una delle richieste che faremo anche noi come sindacato, per sederci, per capire bene e per trovare fino all'ultimo momento il possibile accordo per salvaguardare questi 335 lavoratori ma allo stesso tempo per avere certezze sul futuro di Vodafone all'interno del nostro paese. Dunque, l'azienda può ovviamente arrivare in trattativa con noi? L'azienda può perché comunque il 2.112, che è la procedura che loro applicano, può essere superato con un accordo così come è stato fatto in passato in altre occasioni con le parti sociali e quindi con il sindacato. Quindi si può andare abbondantemente oltre provando a mettere tutta una serie di paletti portando dentro tutti quelli che sono gli accordi di miglior favore che questi lavoratori hanno attualmente dentro Vodafone Italia e auspichiamo che qualora si dovesse continuare verso la procedura questi accordi di miglior favore possano essere portati anche dentro Ericsson. E se così non fosse? Beh, se così non fosse sicuramente si creerebbe un'ulteriore spaccatura, si creerebbe un conflitto che non giova sicuramente ai lavoratori, al sindacato, ma io dico anche alle aziende perché in questo momento di difficoltà per il nostro Paese, per le industrie e per l'occupazione, aprire un conflitto perché non si vuole sedere intorno a un tavolo a ragionare, io penso che non aiuta assolutamente nessuno, in primis anche le aziende.